Salve a tutti giocatori ed eccoci qui in un altro video a distanza di neanche 3-4 ore Infatti credo che lo rilascerò fra... Adesso è mezzo giù e mezza, penso fra un'oretta, verso l'una e mezza dai Almeno c'è un po' di... di rilascio temporale perché fare video ogni 5 secondi non va benissimo A parte che la Konami comunque sta mandando veramente spoiler a manetta Andiamo a vedere queste carte di Battle of Chaos e c'è una carta bellissima Veramente bellissima, è il peschino più bello della vita Andiamo a vedere appunto le prime carte Vi ricordo sempre di passare ai miei social in descrizione e bla 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 Allora, Bad Hacker Se un mostro viene specialato sul terreno dell'avversario possiamo specialare questa carta dalla nostra mano Durante la M-Face possiamo bandire questa carta dal terreno Prendiamo il controllo del mostro con l'attacco più basso dell'avversario Quando quel mostro è scoperto sul terreno i suoi effetti non possono essere attivati E in più possiamo specialare mostri dall'extra deck Eccetto mostri link Carta abbastanza singolare e particolare Poi ogni carta oggi se riusciamo a fare live se internet me lo concede Andremo a vedere un po' tutte le carte nuove che sono appunto uscite K-Tripp e l'IVA Possiamo tributare questa carta per targettare un mostro livello 2 nel cimitero Eccetto appunto questa carta per specialarla In più possiamo specialare un mostro livello 2 con un differente attributo Di quel mostro che abbiamo evocato dalla mano Quindi carta veramente molto buona Un extender veramente utile per i mostri livello 2 Evento livello 2, bestia, attacco 0, difesa 0 Forbidden, tra parentesi list Non lo so Possiamo attivare una carta con lo stesso nome una volta per turno Dichiarano il nome di una carta Per il resto di questo turno l'avversario non può attivare carte o effetti delle carte Con lo stesso nome originale della carta dichiarata Per il resto del duello non possiamo attivare carte o fette con lo stesso nome del Ok Non possiamo attivare l'effetto sempre della carta che abbiamo dichiarato Dichiarato quindi Ok se fosse stata rapida sarebbe stata una carta veramente molto più forte E' molto situazionale E' un po' come proibizione Alla fine Andiamo a vedere questa è una carta molto interessante mi pare Sì perché fa anche occhio ai dinorafia così come il peschino di dopo Praticamente se i nostri LP sono inferiori a quelli dell'avversario possiamo attivare uno dei seguenti effetti Spacchiamo un mostro dell'avversario con l'attacco uguale o inferiore alla differenza dei life points senza targettare Oppure specialiamo un mostro al cimitero con l'attacco uguale o inferiore alla differenza di LP Carta abbastanza Forse un po' me la cosa carina è che spacca un mostro senza targettare ma c'è la regola della differenza di LP E' buona per l'inorafia che abbiamo visto ieri Ed eccola la carta più bella Il peschino più bello Che ci potrebbe che poteva mai pubblicare l'economica Che poteva mai stampare Questo è perfetto proprio perfetto per l'inorafia Last call Se i tuoi life points sono 100 o meno pesca due carte Poi se i tuoi life points sono meno di 10 pesca due carte Quindi a forza di pagare metà LP Sicuramente con quel mazzo arriveremo a 10 LP per pescare 4 carte per dire no? Carta veramente bellissima Carta veramente bellissima 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 E poi mi domando a forza di pagare LP se ci sta Un arrotondamento per cesso difetto Perché a forza di pagare LP arriviamo a life points 0,005 Però la carta mi piace E' una carta bellissima Non so con quanta utilità avrà sinceramente Però magari il mazzi control che spammano solenni oppure col dinorafia Avrà il suo perché magari in uno per non si sa mai Allora detto questo Per oggi basta video Se esce qualcosa di nuovo Ragazzi domani Domani mattina O al massimo poi se ne riparla in live e poi video Detto questo O ci vediamo oggi in live se internet me lo permette Oppure la rimanderò qualche altro giorno Poi vedrò quando Detto questo un saluto a tutti E ci vediamo in un prossimo video